Ciao a tutti da Poderak, bentornati qui su Fernbus Facciamo salire tutte le nostre belle persone a bordo Benvenuta signora, deve venire a Ginevra, no, allora se ne vada a quel paese Oh, tutti sbagliati Oh, hanno sbagliato tutti Buongiorno, lei invece dove deve andare? Lei invece? Buongiorno, salve, deve venire Ok, perfetto, almeno qualcuno che sa dove deve andare Ok, buongiorno signora, buongiorno signora Benvenuta a bordo, buongiorno signora Ma toga che casino che c'è nel microfono C'è nelle cuffie Salve, salve Allora ragà, ma da quando è che non vi porto Fernbus? Da un botto, ho detto va Siamo a tre oggi, che hanno sbagliato il biglietto Quattro, oh, guarda C'è quattro persone che hanno sbagliato il biglietto, incredibile Ma è incredibile sta roba Oh, ragà, ma Non mi è mai successa sta roba Ma che cacchio, cioè avete visto quanta gente ha sbagliato Ragà, sei persone hanno sbagliato il biglietto Non mi è mai successo su Fernbus Ma che l'hanno aggiornato, hanno messo Perché sono un pochino più strane le persone Hanno qualcosa al cervello Va bene, ragà, chiudi Andiamo Wow, bellissimo, ragà, con il Thrustmaster Oh, finalmente È un pochino più Guarda che bello Guarda che bello Già ho messo le frecce? Sì, già ho messo le frecce Andiamo Allora La strada per Ginevra Non dovrebbe essere male Perché È un pochino Montuosa come strada Sono Comunque Molto contento di questo volante Devo dire Meno buggato Del Logitech Ragà Meno buggato del Logitech Già in questo gioco Per esempio Ho visto Allora, non vorrei che Sia una cosa così Però Per dire Con il Logitech G923 Cosa mi succedeva? Facevo Alt Tab Boom Non mi andava più il volante Dovevo premere Reset Qua Thrustmaster Ta 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 Funziona sempre Il Force Feedback Poi è di un autobus E non di un'automobile Lo sento il peso dell'autobus E poi nel caso Posso ben regolarlo Se è ancora addirittura più rigido Come se non ci fosse Il servo sterzo Motore idraulico O se Mettere effettivamente Quello realistico Stiamo utilizzando attualmente Cambio automatico Perché negli autobus Ormai Moderni Per questioni proprio di Sicurezza sul lavoro Non sicurezza Ergonomia Non so come si dice Comunque sul lavoro Tu non devi far stancare gli autisti E quindi Tutte le aziende Eppure il cambio Manuale Magari può risultare Più economico Si sentono un po' Costretto a comprare Quello automatico Per un comfort Dell'autista Che insomma Alla guida Non è che si deve stancare A cambiare marcia In continuazione Soprattutto Se fa tratte Di città Ecco L'unica cosa È che ora ci penso Ho messo Tutto sinistra Destra Del mio volante Ma mi sono dimenticato Di mettere i pulsanti Del clacso Li devo mettere Ho visto Di default Ho messo Acceleratore Freno Frecce Sinistra Destra E basta Va bene Qui in Germania Comunque I semafori Sono un po' Bizzarri Perché ogni tanto Le auto impazziscono Ma devo dire Cavoli Sto real engine È una bomba Ma è bellissimo Sto real engine Guarda che bella La grafica Di sto autobus Io vorrei Giocarci tanto Con il VR Cioè in realtà Posso Per esempio Con Virtual desktop Però È Un VR Di tipo 2D Ok Non è immersivo È un È come se ci fosse Un mega schermo Che comunque È un bel effetto Ma non Come ovviamente Un gioco ottimizzato Sarebbe figo Sarebbe figo Allora vai BMW Partiamo Madex Io mi ricordo Di aver messo Ah no Forse l'ho messo Su Su The bus La mod Su 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 questo gioco Ancora non l'ho messo Per mettere I marchi reali Comunque Stiamo Un po' Andando verso Il Natale Ho visto Anche i biglietti Degli autobus Stanno iniziando a salire Se vuoi scendere Con l'autobus Eh Annaggia Conviene adesso Se volete scendere giù Dai vostri parenti Per Natale O per Capodanno Vi conviene iniziare Già a preordinare I biglietti Perché man mano Che vi avvicinate Già sono alti Continuano a salire Di più Tornando al discorso Trasmaster Sono felice Per il force feedback E sono felice Anche per La pedaliera La pedaliera Ha finalmente Un freno Che non è Tosto Come una pietra Ma è un freno Decente Ok Allora ti spiego No ma non è Non è un aspetto Negativo del logitech Allora il logitech G923 È pensato Per piloti Ok Tipo per assetto corsa Quei giochi lì Per giochi di corsa Infatti Il true force Il famosissimo True force Cos'è il true force La specialità Di quel volante Era che Vibrava Tutto qua A parte che Si vabbè Si si sente Ma solo su tre giochi Io pensavo Bah Prima o poi Era aggiornato negli altri No Non l'hanno più aggiornato Quel volante Anzi Con i continui Aggiornamenti Del software E gli amici Di logitech G923 Confermeranno È capitato che Praticamente Il volante Si inchiodasse Cosa significa Che disabilitasse Il force feedback Contattata l'assistenza L'assistenza Consapevole del problema Sempre dice una cosa Ragazzi Disabilitate Gli amici automatici Ma io mi chiedo Ma come puoi far Dire Ai tecnici Una roba del genere Ma non è che dici Vabbè dai Potter Che è una cosa No Non è una cosa temporanea Io Qualche giorno fa Ho riprovato Ho detto Bah Aggiorniamo di nuovo Il firmware Tanto il volante Lo cambio Oh Non è andato più Raga Non è andato più Quindi per farlo Ripristinare Quel volante Cosa devo fare Devo reinstallare Logitech Ma va va Adesso C'è il Trasmaster Poi si vedrà Allora Potterack Quale Trasmaster Mi consigli Eh vabbè Perché qui Bisogna dire Allora Il Trasmaster T248 T248 È il corrispondente Migliore Del Logitech G29 G923 Infatti si trova Sulla fascia Dei 299 euro Poi vabbè Con tutte le offerte Si trova A 280 270 Su Amazon Poi Per chi Non vuole spendere Attenzione Abbiamo anche qui Una bella fascia Economica Il T128 Il T128 È praticamente Lo stesso identico volante Ma cosa abbiamo in meno Abbiamo in meno Innanzitutto Un incidente in meno Allora lì che ho fatto Mi si è attaccato all'auto Oh Non si stacca più Ok si è tolta Perfetto Un altro incidente Perfetto Abbiamo innanzitutto Non c'è il dis Qui c'è un display Che praticamente In alcuni giochi Tipo nelle auto da corsa Ti mostra Il giro motore La marcia Tipo solo track Le marce In questo momento Non mi dice niente Perché probabilmente Questo gioco Non è stato sfruttato Ma volendo Si può sfruttare E abbiamo Una pedaliera diversa Rispetto al T248 La pedaliera È di plastica Nel T128 E non c'ha la frizione Non mi ricordo Esattamente Ma so che nel T248 La pedaliera Io volendo Poi la potrò cambiare E secondo me Nel T128 Nel T128 pure Non vorrei dire Una cavolata Andate a vedere Prima sul sito Di Trosmaster Questo cosa significa Significa che Se dovessi decidere Dici Oh risparmio Prendo il T128 La pedaliera Non mi piace Nessun problema Giochi effettivamente Fai l'evoluzione Con una pedaliera Più professionale E già di base Quel volante Non l'ho provato ancora Mi piacerebbe provarlo Ma per darvi un feedback A voi E quel tipo di volante Secondo me A force feedback Potrebbe essere molto simile A questo T248 Solo che appunto Costa meno Perché probabilmente Ha una pedaliera inferiore E non c'ha Il display sul volante Ma c'ha dei led Sarà così? Non lo so Chi c'ha magari Il T128 Mi saprà dire Nei commenti Potrà che effettivamente Io l'ho provato Mi trovo bene Non mi trovo bene Scrivete voi Nei commenti Io comunque In descrizione Penso che Vi lascerò Trosmaster Come volante principale Ma perché? Innanzitutto A livello di Collaborazione Con le software house Con cui io gioco Trosmaster E' al primo posto Col Aerotrack Simulator 2 La SCS software Collaborano E fanno Un software ottimizzato Con la Giant software Collaborano E adesso Uscirà Un accessorio strafigo Che si chiama SimTrack Praticamente Posso Potrò attaccare In questo supporto Il T248 E avere il volante Tipo finalmente Da camionista E hanno Hanno aggiunto anche Il controller Il joystick Per farmi Simulator C'è proprio Un botto E Podrack Ok Bello 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 Ma c'è un volante Superiore al T248 Quali sono gli svantaggi Del T248 Il T248 L'unico svantaggio Particolare Che come il G29 G923 Si tratta di un volante Con corona fissa Cosa intendo Con corona Vedete Questa Questa cosa Che sto girando Ok In pelle Non lo puoi rimuovere In volanti Più professionali Puoi sostituirlo Ma Podrack Che mi serve Sostituire La corona Del volante Allora Se sei Un vero Amante Di simulatori Ma non Simulatori Di camion Di agricoltura Ma di corse Probabilmente Quando giocherai A formula 1 Tu vuoi giocare Con il volante Di formula 1 Ecco Con questo T248 Rimane sempre Questa forma Ok Rimane sempre Questa forma Con volanti Superiori Tipo il T300 Già Che costa 499 euro Invece la corona Puoi sostituirla Quindi Non solo Hai il tuo volante Super mega premium Ma in più Puoi sostituire La corona All'occorrenza Poi c'è Il G2 TG2 Non mi ricordo Come si chiama esattamente Che quello È il top Di gamma Di Thrustmaster E quello È il top Di gamma Per le Corse Insomma Se giocate con quello Però Per Eurotrack Simulator 2 Per Farming Simulator Quel volante Da 599 euro 699 euro È un po' Troppo esagerato Vi ho già fatto Un mega riassunto Di quale volante Scegliere Però tanto È anche un discorso Un po' vuoto Perché sto parlando Di questa cosa In un gioco Di autobus Non penso Dirò nel titolo Come Quale Volante Scegliere È un po' Molto difficile Che qualcuno Lo vedrà Quindi Sì Adesso Quanti siamo In Un centinaio di persone Hanno visto questo video Magari hanno ascoltato Le mie parole Si sono acculturato Un pochino Su quale volante Scegliere Però Poi Mi verrà lo stesso richiesto Come Come quale volante Acquistare Allora Ho notato una particolarità Di questo Amico Fernbus Dall'ultimo aggiornamento Che è passato Tanto tempo L'intro lagga un botto Cosa significa Che cacchiarola Neanche Boh Neanche Sembra di andare a 2 fps Nel menu Poi nel gioco Vedete Si gioca bene Ma non ho capito Sta roba Di questo problema Che hanno messo Alex Alex Pandolfi L'amico mio Della TML Studios Non è Della TML Studios Però Segue tantissimo I miei gameplay Di Airbus E Thebus Anche tu hai questo problema Dei lag Nel caricamento Di Di Fernbus A Thebus No No Non ho problemi Almeno Non mi ricordo In questo momento Vai Mettiamo la freccia Let's go Ginevra Stiamo arrivando Allora diciamo Questa mappa Base E' un po' Spoglia Ci si diverte di più Quando ci si avvicina Verso la città Quando ci si avvicina Dentro All'interno Della città Dico Ginevra Di solito C'è la particolarità Dove eravamo prima Avete visto C'era tipo una specie Di montagna Molto figo Molto figo Molto realistico Vediamo Se andando verso Ginevra Ci da Effettivamente Qualche paesaggio Un pochino più Caratteristico Del luogo Più particolare Io comunque Ringrazio tutti i miei abbonati Il mitico Henry95 L'Ucraino Che Hanno Visto Continuato a rinnovare L'abbonamento Insieme a Davide Xia Che anche loro Ringrazio tantissimo Per il supporto Vi ricordo Se volete Potete Vabbè Al di là L'iscrizione è gratuita Mi piace Sono gratis Ma se volete C'è una sezione Abbonamento Abbonamento Che cosa ti permette Di fare Ti permette Di accedere A dei video Esclusivi All'interno Del canale Ce ne sono alcuni Tipo L'air show Di Desenzano Del Garda Dove faccio vedere Le frecce tricolore E caso Assurdo Ha voluto Che poi Quelle frecce Una freccia Di quelle Che ho registrato Poi Purtroppo Avete saputo Di quello Che è successo Ci sono Le frecce tricolori Con le loro Acrobazie C'è Un pic Ci sono Ooooo Chi l'ha visto Sto rosso E ormai Sono passato Ci sono Un bel po' Di video Particola Gameplay Esclusivi Insomma Ha dato Una laggatina Ecco Ecco Vedi Ci stiamo avvicinando A Ginevra Perché me ne sono accorto Perché vedate Inizia a essere particolare Qua il territorio Ah c'è Un lago Molto bello O un fiume Non lo so Se è un fiume o un lago Comunque è molto particolare Ginevra Guardate quanto è bella Vedete Quando mi piace di Fernbus Che magari si Le autostrade Sono un po' Generiche Ma quando entri in città C'è L'aspetto caratteristico Di quella città Che Prende il gioco Molto molto realistico In questo caso Stiamo con Itabus Un'azienda Di trasporti Italiano Che sta andando Molto in voga Con tutti i motori Neoplan E MAN Neoplan E sempre MAN Non li ho mai provati Devo essere sincero Allora C'è la battaglia In Italia C'è tra Itabus E Marino Io invece Su Marino Ci sono andato Marino Allora Vi dico Le due Differenze Allora In Itabus Ci sono gli autobus Secondo me Più tecnologici E più moderni Ma Lo spazio interno Per le gambe È un pochino Più stretto Marino Bus Invece Ha adottato Una nuova strategia Con anche lei Nuovi autobus Però Non Neoplan Ma Aspetta Quali sono I loro autobus Non mi viene adesso Il nome del brand Non Neoplan Ma gli altri Setra Ecco I Setra Hanno loro E hanno ridotto Il numero di Posti a sedere Ma Sono molto più larghi Quindi il biglietto Costa anche un pochino Di più Con Marino Bus Dipende poi ovviamente Da quando e come Lo prendete Però state comodi In entrambi Ho visto C'è sia l'autobus Con il wifi Con il bagno Ah no Con il bagno Dipende Dalla tratta Però la maggior parte Degli autobus Si E' un po' Un ago Sulla bilancia Quindi Ti dici Vabbè Risparmio Ma sto un pochino Scomodo Oppure Spendo un pochino Di più Ma sto comodo Quindi alla fine Perché le sai queste cose Poderak? Perché Ho visto tutti i prezzi Perché Mi è capitato Di dover prendere L'autobus In questi giorni E Insomma Ho visto tutte le cose Flixbus Flixbus Proprio zero Ancora non l'ho Non l'ho Non so neanche come Si prenota un biglietto Da Flixbus Ma in teoria Quello più smart Di tutti Con l'app Super Fighissima E ho visto a Brescia Una roba assurda Raga Bab Blablacar Si chiama Allora Bablacar Era iniziato Con Le auto Cioè tu Che ne so Dovevi andare a Milano Vuoi recuperare un po' Di spicci Tu metti l'annuncio Sto andando a Milano Se c'è qualcuno Che in quel giorno A quell'ora E' a Milano Tu li puoi Glielo puoi dire E loro vengono contenti Ti danno dei soldi Guadagni Ma adesso Hanno messo l'autobus Quindi probabilmente Per delle tratte Dove c'è tanta richiesta Hanno messo un autobus Infatti Ho bagnato mio fratello L'altro giorno Ho visto l'autobus Di Blablacar Ho detto Basta Ed eccoci qui Siamo arrivati a Ginevra Buonanotte a tutti Buonanotte In realtà è il giorno Guardate anche Siamo alle due di pomeriggio Potre Va bene Vi ringrazio a tutti Per aver visto il video Mi raccomando Lasciate un mi piace Iscrivetevi E noi ci vediamo Alla prossima Link in descrizione Ciao Ciao